Sei sicuro? Sono totalmente certo. Stasera c'è un'orchestra dei 18 elementi, big band, più 4 o 5 chitarristi, Marco Manusso, l'ha detto mio suocero, l'ha detto, and tomorrow, a great show, l'ha detto dubbito. Ma c'è anche, ci sono chitti intorno. C'è Pat, che è un amico americano, avrà la stessa compagnia aerea a Continental. Pat, this is my big friend, Red Ronnie. Ciao, Pat. Ciao, come stai? Come ti sei messo qui? Come lui, ma hai detto come Ming Deville, mi ha detto io che non sei più. Come Ming Deville? Ma ha detto, ma a parte di questi valenti che saremmo un canetto che mi ha messo qui, un canetto Ming Deville. Ciao, Michele. Ma come ti sei messo? Io che dicevo a lui come ti sei messo, guardavo tu, ma come ti sei messo? È una tradizione. Ciao, 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 ciao. Ecco la sposa Si parla l'ufficio, l'ufficiale manager a vita, Salvatore Di Bobi, in tutti i sensi In un unico senso, finanziario Mi è stato vicino anche cose difficili E cos'è un pelle vera? Al cantare E cos'è un pelle vera? Un rivestimento che si usa per divani, macchine o cantanti d'epoca Mi sento circondato da forze energeticamente positive, va tutto bene, sono emozionato ma sempre in controllo di me stesso E' elegante Un stivaletto alla Steve Ray Vaughan Johnny Cash La Johnny Cash Qual era il cantare più famoso di Johnny Cash? Eh, I walk the line, poi Johnny Cash did the Folsom Prison Blues Folsom Prison Blues Ma canta Folsom Prison Blues perché stai penetrando nella prigione No, sto uscendo dalla prigione Della solitudine Sto uscendo dalla prigione della te stessa e sto andando verso la felicità Sembra come un lemon meringue Cos'è che sembra? Un meringue, quello di torta, no? Ah, una meringa Sì, una meringa Ma sei bellissima Ma sei bellissima Si Ma, puoi fixare i miei claves? Sì Mettete qui che non devi vedere la impresa, eh Mettete qui che non devi vedere la impresa che adesso arriva, eh Eh? Sono dimenticatore Sì Sì No, 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 ecco che sta uscendo Sì 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 Allora, andiamo Tadam 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 Sì Sì Lei, signorina, dobbia di Tränzli Intende prendere il marito il cui presente Satti Roberto? Sì Sì In seguito alla risposta affermativa, io, Mauro Gelfi, sindaco, ufficiale dello Stato civile dei comuni di Grottaferrata, dichiaro il nome della legge che siete uniti in matrimonio si cambia di pianeti si cambia di pianeti si cambia devi togliere il giallo il giallo il giallo che è su lui passi con me a me a me qua 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 vai e Kevin è un'artista è un'artista è un'artista facciamo vedere Sottotto . Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.